Un incendio divampato nel pomeriggio di sabato 30 aprile intorno alle 17.30 in un'abitazione situata in via Massimo d'Azeglio a Castellamonte. Le fiamme sono partite dalla cucina e si sono propagate nel resto dell'alloggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte. I residenti in quel momento erano in un'abitazione vicina e viste le fiamme hanno allartato il 212. All'interno dell'alloggio c'erano tre gattini che sono stati salvati da due vigili del fuoco di Ivrea. Le bestiole avevano già perso i sensi e sono stati rianimati dai vigili del fuoco con le bombole d'ossigeno. Appena rianimati sono stati subito trasportati dal veterinario. L'alloggio è stato dichiarato inagibile. La famiglia residente verrà accolta da alcuni parenti.